E buon pomeriggio a tutti, ma dove siamo? Siamo qui in via Borgaccio, dalla nostra estetica bio naturale e unghie Giovanna Florio. Siamo qui in versione natalizia, perché tra poco vedrete qualcosa di straordinario. È un nuovo massaggio che lei naturalmente farà sempre su di me, io andrò ora a cambiarmi, e quindi faremo una meravigliosa diretta proprio su questo.